Oggi parliamo delle migliori strategie per far andare al massimo i tuoi profili social e quindi iniziare a guadagnare soldi dall'attività sui social, YouTube, TikTok, Instagram, quello che vorrai tu, oppure aumentare di gran lunga gli attuali guadagni e le attuali performance, ok? Benissimo, prepariamoci perché è una bella lista fornitemi dagli studenti della mia Insane Academy. Io sono Roberto Buonanno, stratega dietro le quinte dei più grandi influenze italiani, fondatore di Insane Academy, fondatore di Tonsardur Italia, Tecradar Italia, titolare di Spazio Games e fondatore titolare di Insane Management, uno dei management più fighi d'Italia, per me è il numero uno per codice morale, risultati e, anche posso dirlo, soddisfazioni dei creator al suo interno. Allora, iniziamo. Allora, nel video precedente abbiamo visto come fare a crearsi in maniera efficace, a inventare il tempo per avviare un'attività da content creator professionista oppure un qualsiasi lavoro collaterale, ogni tanto mi confondo con l'inglese perché vivendo all'estero si chiamano side hustle, in inglese che vuol dire sbattimenti laterali più o meno. Un secondo lavoro che un giorno potrebbe diventare, anzi nella nostra ambizione, diventerà il primo e tutto questo lavoro che faremo ci servirà per eliminare dalla nostra esistenza per sempre persone che non vogliamo, trasferte, viaggi, tram, treni, bus, traffico, code, tangenziali che dobbiamo affrontare ogni giorno per andare sul posto di lavoro e il capo indisponente, i colleghi odiosi, tutte quelle cose che non sopportiamo. La sveglia la mattina che è un abominio. Dici, ma tu non usi la sveglia? Eh, no. Mi sveglio comunque alle 5, tra le 5 e le 5 e mezza, ogni mattina senza sveglia e salto giù dal letto perché? Perché ho un sacco di grandi obiettivi da realizzare. Quindi non ho bisogno di sveglia, non ho nessuno che mi comanda bacchetta, ma ho i miei grandi obiettivi. Allora, iniziamo. Quanto tempo dedicare ai propri profili social? Bella domanda, iniziamo bene. Questa l'ha fatta Davide Vasco. Quanto basta? Dipende. Risposta numero 1 che non vi lascia soddisfatti. Quindi, guarda, una volta che siete veramente ben organizzati, vi basta un'ora a settimana, ok? Ma veramente ben organizzati, staff, collaboratori, deleghe, e il tuo tempo, di te che fai il content creator o la content creator, è quello che serve per registrare i contenuti. Oggi, per esempio, io faccio una sessione di un'ora, registro due contenuti, gli argomenti me li hanno passati gli studenti di Insign Academy, dove puoi entrare anche tu con 47 euro, certo. Per me conviene, anche perché a fine anno la chiudo, per motivi che svelerò solo a fine dicembre di quest'anno, 47 euro. C'è il corso YouTube Pro, per esempio, quello Instagram Pro, 47 euro, insomma. Te lo puoi permettere, se non ti piace, te lo rimborso io, col mio denaro personale. I ragazzi della Insign Academy mi danno un sacco di spunti e un giorno tu potrai avere il tuo staff, la tua community, che ti darà un sacco di spunti e argomenti. Quindi, io ho già gli spunti, vengo qua, registro, prendo l'Sd, carico su Google Drive. Dall'altra parte del mondo c'è il mio Tony, Antonio Lucerino, scarica il contenuto. Assieme al team determina montaggio, tempi, copertina, titoli, descrizione, tutto ciò che riguarda la gestione di questo contenuto. Poi lo spezzetta in contenuti brevi, verticali, da usare come Reel su Instagram e Short su YouTube. E poi mi crea dei caroselli su Instagram, senza che io sappia niente, sulla base di quelle che sono le nostre argomentazioni, i nostri temi della settimana o del mese. Ok, punto d'arrivo. All'inizio devi fare tutto tu, quindi non meno di un'ora al giorno. Due fasi importanti da organizzare. Allora, le fasi di lavoro, di attività da content creator fatta bene sono Uno, studio quotidiano, che magari ti porta a fare più di un'ora al giorno, però non l'ho considerato come lavoro effettivo. Cioè, tu nel corso della giornata devi guardare il resto del mondo, cosa fa di guardare i top creator della tua categoria, ma anche chiunque emerga, i video più visti, i trend della giornata, i trend della settimana, devi anticipare i trend, devi fare ricerca, studio e sviluppo, punto e basta. Quindi, studio è fondamentale tutti i giorni. Scrittura dei contenuti, non puoi andare a braccio. Io conosco veramente poche persone in grado di andare a braccio e riuscire a realizzare allo stesso tempo contenuti di successo, ma queste stesse persone, se i contenuti se li studiano, hanno il doppio il triplo di successo. Allora, non dico di scrivere parola per parola, ma guardate qua. Questo è lo sviluppo del video precedente, io poi l'ho mischiato. Io l'ho mischiato in due contenuti separati, però capite che è veramente un elenco puntato, anzi numerato, dal quale io poi traggo, grazie alle mie competenze, un percorso logico che poi si sviluppa nei contenuti che voi vedete sul mio canale YouTube, che poi vanno anche su podcast, io neanche lo sapevo. Staff, scrittura dei contenuti, realizzazione, produzione, post-produzione, pubblicazione, analisi e report. Quanti video fare, indifferentemente dai top content creator del settore? Perché ognuno ha il suo ritmo. Allora, io lo dico nei miei corsi, come dico bene tutta la teoria della gestione del tempo, della... come inventarsi ore di lavoro per poter avere successo. Questo video qua ha approfondito in maniera interessante, quasi direi molto completa il concetto. No, non completa come nel corso, perché ho fatto solo due ore sulla produttività nel nostro corso avanzato. Però quello costa 497 euro, magari ci pensate più avanti. Io dico questa cosa qua nei miei corsi e la sostengo tuttora. Se tu sei newcomer, emergente, nel settore, nella categoria che hai scelto di trattare sui social, purtroppo devi avere a che fare con i ritmi di pubblicazione dei top. Se oggi il top del settore che hai scelto, immaginiamo uno dei più competitivi videogame, pubblica due video al giorno, e tu pensi di cavartela con un video a settimana, devi aver creato veramente una proposizione unica, cioè una tua interpretazione di quel tipo di contenuti unica. L'ha fatto Lorenzis, per esempio. Io lo cito sempre perché lui è esploso nella nicchia del gaming grazie a questi contenuti montati in maniera spettacolare, e cavolo, ci metteva forse 8, 9, 10 ore di montaggio per ciascun contenuto, e quindi con questa nuova dialettica, con questa nuova modalità comunicativa fatta da questi montaggi super serrati, pieni di animazioni, effetti, scritte, dei colpi di teatro, bing, bom, bam, pum, ha creato un canale di grande successo. Facile? Per niente. Quindi, la maggior parte delle volte, dovrai adattarti a quelli che sono tempi, frequenze e modalità di pubblicazione del top, perché è il loro pubblico che tu vuoi andare a prendere, e se quel pubblico ha già delle abitudini, e guarda un video al giorno, tu gliele presenti uno al mese, capirai che non avrai mai successo, a meno che non ti avverrai una tua chiave di lettura originale. È la cosa più difficile, ma anche quella che ti garantisce successo con molta più facilità. Quali dati guardare per gestire le tue pubblicazioni? Allora, noi diciamo sempre di guardare la portata media dei contenuti. Allora, in cosa si misura la portata? Su YouTube, facciamo solo YouTube, perché non posso affrontare ogni piattaforma, parlando di YouTube. Dei guardare il watch time, cioè quella percentuale che ci dice quanti secondi o minuti sono stati visualizzati in media dal tuo pubblico rispetto al totale della durata. Ed è molto importante, perché? Perché YouTube funziona ancora e tutt'oggi sul mantenere le persone sulla piattaforma. Quindi chi tiene il più tempo possibile le persone sulla piattaforma ha più successo rispetto a chi riesce di meno a fare questa cosa. Quindi, uno, il watch time. Due, la percentuale di click su titoli e miniature quando i tuoi contenuti sono suggeriti da YouTube. E poi, collegato ovviamente, la retention, che poi è la cugina del watch time. Ovvero, prima, YouTube ti propone nei consigliati, perché adesso, tra parentesi, sto parlando, dando per scontato che tu sappia molte cose. Oggi YouTube, di base, non è che manda i video in visione ai tuoi iscritti come una volta, che addirittura ti mandava le email quando uno dei tuoi canali a cui eri iscritto pubblicava un video. No, non è più così. Adesso, gli iscritti servono quasi a niente. Quindi, tu ti iscrivi a un canale e se non attivi la campanellina, la vedi questa qua? Provaci adesso. Provaci, si schiaccia un bottone, si scrive, attiva le notifiche e attiva la campanellina. È l'unico modo per avere una notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Non lo fanno in pochi. Spero che tu l'abbia fatto adesso. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Com'è che si trova un nuovo pubblico oggi su YouTube? Com'è che si fa la maggior parte delle visualizzazioni del traffico? Tramite i consigliati. Quindi, quella particolare situazione per la quale l'algoritmo, quindi l'intelligenza artificiale che governa YouTube, ti consiglia a qualcuno. Che può essere qualcuno che già ti conosce, un tuo iscritto, qualcuno che ha già visto i tuoi video senza essersi iscritto, o qualcuno che ancora non ti conosce. Allora lì, conta il click rate, cioè la quantità di persone che a parità di impression, cioè vista la tua miniatura e il tuo titolo, o la porzione di titolo, effettivamente ci clicca. Quello è già un dato molto rilevante per YouTube. Se ti propone a un certo pubblico e i click in proporzione ad altri content creator sono bassi, sono cavoli amari. e poi una volta che le persone entrano nel contenuto è fondamentale la retention. Quanti secondi ci rimangono? Quella che poi alla fine del mese ti aiuta a portare a calcolare il watch time. Fatti questi tre calcoli, hai fatto la maggior parte dell'analisi che devi fare per il tuo canale. Quindi retention, click through, watch time in generale del canale. Non andare oltre perché mi sembra di andare troppo in specializzazione. Conviene riempire le giornate con degli short quando non hai il video da pubblicare? Sì, assolutamente sì. Allora, non è che sono gli short e andranno sempre bene gli short. Per ogni piattaforma, come dice il mio amico Stefano, Stef di Steffr, devi sempre sfruttare il trend del momento. Oggi, su YouTube, gli short sono spinti alla grande, su Instagram e Reel vanno abbastanza bene. Sono la stessa cosa, perché per esempio sono video in verticale di massimo un minuto, a grandi linee, quindi il nostro suggerimento Insane Academy, Roberto Buonanno, ma anche Insane Management, è di creare un sacco di short. Ti costa niente, te li iscrivi, li monti un po', ci metti veramente poco. Suggerimento, li fai parlati, raccontati quello che vuoi, ma metti sempre i sottotitoli perché molte persone possono essere in condizione di non poter alzare il volume e non capiranno niente e quindi perderanno questa cosa. I short saranno anche monetizzati e quindi oggi più che mai, anche se tu pubblichi un contenuto a settimana o addirittura uno al mese senza avere uno short ogni giorno, come dietro le quinte dei tuoi altri contenuti, brevi estratti dai tuoi altri contenuti o anche, meglio ancora, contenuti originali creati apposta per diventare short e real. Orari migliori per lavorare? la mattina se è possibile per tutta la fase di ricerca e sviluppo, ideazione e scrittura contenuti, anzi molto meglio per la fase di ideazione e scrittura, perché ricerca e sviluppo può portare a distrarti, iniziare a guardare YouTube a raffica o TikTok a raffica dalle 5 di mattina, sinceramente può anche rincoglionirti un po'. Quindi suggerirei studio e ricerca la sera, la mattina, analisi dei tuoi risultati, ideazione, cioè pensare che contenuti realizzare, e scrittura dei contenuti da realizzare, ok? Se poi riesci e hai un ambiente che ti permette di poter anche registrare contenuti la mattina è ideale, perché ti lavi, per chi maschietto si sbarba, le ragazze si truccano, ma si può dire ragazzo mi arrestano, devo dire coloro che ritengono di avere un rientro, no, vabbè, chi si trucca si trucca, chi si sbarba si sbarba, chi si cura la barba se la cura, siete nel momento di maggiore freschezza, quindi passate un'ora e mezza dal risveglio e che non avete più le borse così che sembrano delle zavorre, è anche un buon momento per registrare, c'è tanta energia e le persone lo sentono. Mattina, per i lavori che richiedono tanta energia, sera, notte, per quelli che puoi fare un po' in maniera scialla. Conviene partire da subito con più canali? Sì, adesso, veramente, per come noi suggeriamo di lavorare come content creator, oggi TikTok, non ci scappi più, perché è tuttora una piattaforma che spinge tantissimo i propri creatori in maniera organica, cioè, per niente, sembra che è lì che regala visualizzazioni, regala, 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 perché è una piattaforma che deve competere per diventare sempre più importante, mentre le altre si ritengono già affermate. Quindi, oggi, per assurdo, TikTok, YouTube, dove sono entrambi fondamentali, se proprio ne sacrifichi uno, sacrifica TikTok, anche se è un peccato perché è esplosivo. YouTube con i short, in automatico, poi, i stessi short diventano real su Instagram e TikTok su TikTok. questo è il minimo sindacale indispensabile oggi su garantirti un'attività da creator professionista. Perché YouTube è sempre in priorità? Perché YouTube oggi è l'unico che fornisce con un po' di lavoro una monetizzazione immediata, cioè, dopo un po' di mesi, più o meno con facilità, inizia a guadagnare mensilmente dei soldi che arrivano direttamente da YouTube e non è male, ti dà tante garanzie e tanta sicurezza in più e secondariamente perché ciò che carichi su YouTube continua a generare valore nel tempo e quindi c'è poco da fare. TikTok non lo fa ancora questo, neanche Instagram. Tu potresti avere un video realizzato due anni fa che ti fa ancora 100.000 visualizzazioni al mese. Il canale monetizzato becchi 100 euro al mese senza far niente. Più magari tutti quelli che ti arrivano dall'affiliazione, magari dentro un link di Amazon che continua a generarti vendite e via andare. Io ho un video di anni fa che c'era ancora il mio vecchissimo collaboratore con me in quel video che tuttora genera vendite di un accessorio per Nintendo Switch di cui avevamo appunto parlato in quel video. Incredibile. Una scemenza 10 euro al mese. Ma tu immagina se io fossi creator professionista come tanti di recensioni che conosco quindi recensioni di tecnologia hardware, telefonini hanno un capitale incredibile di contenuti su YouTube che continuano a generare soldi anche se loro si fermano. Quindi YouTube immancabile. Possiamo prenderci una pausa una o due volte all'anno. Sì, tu ma non i tuoi profili social. Cioè i tuoi profili social non vanno in ferie come le aziende non devono mai chiudere tranne in Italia che però l'Italia è il terzo mondo dal punto di vista del business. Qui lo dico e qui lo ammetto. Mentre i tuoi profili non devono mai andare in vacanza. Tu sì. Come si fa con la programmazione? Ovvero possibilmente hai già un team anche di una persona basta o se no non riesci a fare vacanza vera senza team ma non ce la puoi fare. E tu parti per due settimane alle Maldive Venestuela dove ti pare e hai già tutti i contenuti programmati per uscire laddove si può laddove non si può le piattaforme dove le piattaforme non lo consentono hai già tutti i contenuti realizzati e pronti quindi hai già che ne so 14 short 14 tiktok pronti solo da pubblicare e c'è un collaboratore che fa in modo di metterli tutti online risponde ai commenti sistema modere e quant'altro quindi il pubblico prendente non si accorge della tua mancanza ma tu ti rigeneri una o due volte all'anno anche quattro volte all'anno l'importante è che fai il lavoro prima. È meglio realizzare live streaming video da più di 15 minuti entro 10 minuti sotto i 10 minuti io da quando non guardo più il tempo della durata dei video ho il maggior successo sul mio canale ma io non faccio testo cioè non voglio prendermi esempio vi dico solo che da quando non punto più alla conversione dei miei contenuti in vendita di corsi perché ho deciso che quel business lo chiudo a fine anno quindi maggiore informazione verso dicembre vengo un sacco di corsi perché faccio i contenuti in maniera più tranquilla scialla solo per il gusto di dare valore alle persone quindi cosa fare? Devi andare a vedere nella tua categoria in tutto il mondo i migliori che tipo di prodotto che tipo di format danno al proprio pubblico e quella è una buona indicazione e poi devo fare esattamente come fa che ne so Linux Tech Tips come fa e beh quello non fa più neanche video YouTube praticamente Logan Paul no però caspita cioè se i vlog più seguiti al mondo che ne so sono quelli di come si chiama quello fortissimo diventico sempre con la mascella squadrata se quelli sono i vlog più seguiti al mondo e ho fatto a scuola probabilmente puoi provare a ispirarti ecco poi cerchi la tua chiave di lettura abbiamo detto quali sono i dati fondamentali da analizzare per capire se i tuoi contenuti vanno bene lì sei già ne abbiamo parlato in precedenza comunque click rate di miniatura e titolo watch time retention quando la gente arriva sul tuo contenuto basta hai già un'idea lavora 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 produci analizza riformula studia rifai la tua programmazione e torna a lavorare altri punti rapidissimi dal nostro Lucchino prima nei punti di Davide un'attrezzatura base semplice ma efficace guarda c'è il link qua sotto di tutte le attrezzature che consiglio per qualsiasi portafogli come crescere partecipando a corsi o gruppi con persone che condividono la stessa passione cercando gruppi di persone e corsi che contengono persone che condividono la stessa passione noi in Insieme Academy abbiamo creato veramente un gruppo bello esagerato mi ricordo è stato l'anno scorso abbiamo chiesto ai nostri studenti dei corsi avanzati con pochi giorni per avviso vi va ad incontrarci negli uffici qua di Tom Sardo e di Legnano sono arrivati praticamente tutti tutti è stato bellissimo e quindi vale la pena è fondamentale per crescere circondarsi di tuoi pari magari anche di persone che hanno già raggiunto un livello che tu oggi per esempio potresti sognare di raggiungere così hai ispirazione sia da chi come te è tutti i giorni in trincea e più o meno a tuo stesso livello che da chi ha già fatto cose che tu ancora giustamente sogni di raggiungere come collaborare con altri content creator professionisti allora devi portare un valore che loro oggi non hanno è fondamentale perché chiaramente tu stai cercando quasi sempre content creator con molta più portata molti più follower molto più famosi di te che hanno un po' la puzza sotto al naso perché sanno che tanti piccolini provano ad attaccare per succhiare visualizzazioni succhiare popolarità devi portare qualcosa di valore io ho conosciuto ragazzi che hanno fatto proposte eccezionali cioè che ne so ho una Lamborghini che ne dici vieni a fare un video di Lamborghini ho la barca oppure sto facendo questo oppure sono esperto in programmazione oppure guarda ho visto che non hai sito internet ti faccio il sito anzi te l'ho già fatto eccolo qua porta contenuto porta valore porta specializzazione che loro non hanno cosa fare se ti senti poco apprezzato e vuoi mollare l'ho trattato nel video precedente devi avere un obiettivo che deve essere un ideale un ideale qualcosa che valga la pena perseguire qualcosa per la quale valga la pena dedicare tutta la tua vita qualcosa che ti faccia volare ti faccia alzare presto la mattina attenzione non deve sempre forza salvare il mondo o scoprire la formula della fusione fred ti basta anche solo avere per esempio il nobile ideale di avere la certezza economica per te tutta la tua famiglia da qui alle generazioni a seguire ok per esempio oppure la volontà di donare un milione di euro entro o fine 2023 perché no per donare un milione dovrei guadagnarne due milioni credo o almeno un milione uno ecco un nobile ideale e non molli mai se hai problemi di lavoro a casa cosa fare? esci di casa 18 anni come giusto fare come secondo me andrebbe fatto massimo 20 anni fuori di casa e inizio un'avventura completamente diversa con altre persone coetane ragazze ragazzo amici compagni di scuola colleghi di lavoro via via fuori da casa non puoi avere problemi a casa cioè la famiglia giustamente ti ha fatto crescere ed è il momento di andare via non ho minimamente idea di cosa pubblicare studia tutti i giorni tutto quello che c'è al mondo tutto quello che esce dai più grandi youtuber del mondo dai più grandi instagram del mondo dai più grandi tiktoker del mondo l'ispirazione ti arriverà ultimo punto come districare la propria vita personale da questa attività di content creator non è possibile viviamo in un'epoca in cui il proprio lavoro la propria professione sono elementi che vanno a fondersi con la vita privata anche perché non c'è più la barriera che c'è una volta cioè il lavoro di content creator come molti dei lavori moderni non è quello che andavi in fabbrica 8-5 ti imbravi poi alle 17-5 ti imbravi ancora e da lì fino al giorno dopo fino al prossimo cartellino da timbrare ti dimenticavi completamente di quello che c'era nella fabbrica e tutto è cambiato quindi non puoi districare se hai delle persone che ti ridicolizzano ti sfottano ti deridono fanno commenti strani sul perché tu abbia fatto una scelta che può essere sia quello che il content creator ma anche quello di fare il cameriere o l'assistente di un imprenditore o la segretà quello che vuoi chiunque nella tua esistenza fa commenti che non siano positivi e motivazionali e che non siano di incoraggiamento evita di frequentarlo ciao ciao arrivederci grazie ci vediamo una prossima volta grazie grazie